A che punto siamo con lo sviluppo della terapia con cellule CAR-T per i tumori solidi? Ne parliamo con il professor Massimo Dominici dell'Università di Modena e Reggio Emilia. L'abbiamo incontrato qui a Roma dove è in corso la quarta conferenza annuale di Soho Italy, una società scientifica giovane e dinamica nata dalla collaborazione tra l'Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori dinamadori di Meldola e l'MD Anderson Cancer Center di Houston. Professore abbiamo già diversi tipi di cellule CAR-T disponibili per il trattamento di alcuni tumori ematologici, invece non ne abbiamo neanche una in pratica clinica per il trattamento di tumori solidi, quindi lo sviluppo si stanno studiando ma lo sviluppo di queste CAR-T dei tumori solidi è molto più indietro. Come mai? Quali sono gli ostacoli? Innanzitutto perché i CAR-T per i tumori ematologici sono stati scoperti già all'inizio degli anni 2000, per cui c'è un tema temporale, cioè c'è stato più tempo per sviluppare questi prodotti. Secondo perché gli ematologi hanno una maggiore capacità di maneggiare cellule, i trapianti hanno una grande possibilità nelle malattie ematologiche. Il terzo motivo è legato alla differenza in natura delle malattie. Il tumore solido ha anche un tessuto che è attorno al tumore che è in grado di immunosupprimere solitamente le cellule del sistema immune e questo è uno degli ostacoli maggiori all'implementazione delle cure. In più le sedi sono all'interno dei tessuti solidi e quindi i linfociti fanno fatica a entrare in questi tessuti quindi gli sforzi vanno nella direzione di riuscire a vicariare questi ostacoli meccanici e immunologici. Che strategie si stanno utilizzando negli studi appunto sulle CAR-T sui tumori solidi per cercare di aggirare questi ostacoli? Si stanno utilizzando strategie che vogliono potenziare il CAR-T cioè linfocita, renderlo più potente e più efficace facendolo magari produrre sostanze che non produrrebbe solo con il recettore, sinergizzando il CAR-T con agenti in grado di rendere il tumore più immunosensibile e ad esempio utilizzando le strategie nuove, è uscito un articolo recente dove si utilizzano delle microonde per far penetrare all'interno del tumore i CAR-T e quindi rendere un tumore come in questo caso era il tumore del polmone estremamente sensibile. Quindi si tratta di intervenire in vari modi per far sì che l'infocita sia più efficace. Quali sono i tumori solidi per i quali abbiamo CAR-T in fase più avanzata di sviluppo? Ma sono tumori, di solito sono tumori che originano dai tessuti neuroectodermici cioè parliamo dei tumori cerebrali in particolare, il neuroblastoma che è un tumore dei bambini, però ci sono anche tumori epiteliali come ad esempio il tumore gastrico, ci sono dati anche importanti sul tumore della mammella, quindi diciamo che si sta ampliando il ventaglio di tumori solidi ai quali ci sono sperimentazioni cliniche di fase 1 e 2 in essere. Tra l'altro il laboratorio che lei dirige lavora proprio sullo sviluppo dei CAR-T per tumori solidi, ci racconta un po' quali sono le vostre ricerche in corso? Sì, noi stiamo lavorando da tempo su un CAR-T che è diretto contro una molecola che si chiama GD2 è che è una molecola espressa nei tumori che ho appena citato, quindi tumori cerebrali ma anche espressa ad esempio nel melanoma, nei tumori a piccole cellule del polmone e nel neuroblastoma, quindi si tratta di una serie di sfide che stiamo mettendo in campo per cercare di far sì che queste terapie possono essere efficaci per i pazienti. Non si tratta solo di sviluppare il CAR-T ma si tratta anche di definire quale tipo di paziente beneficerà, come riusciremo a infondere queste cellule e anche se ci sono delle alternative sinergiche al trattamento con CAR-T. Avete già risultati preliminari su queste CAR-T? Abbiamo risultati pubblicati in modelli animali, in modelli in vitro, in tutti i tumori che ho citato, per cui adesso stiamo raccogliendo le forze per riuscire ad arrivare al paziente e il primo target crediamo sarà il tumore cerebrale. Siamo necessariamente ottimisti, l'oncologo non può non esserlo.